Buongiorno a tutti. Dopo l'incarico di formare il nuovo governo, vedremo se nei prossimi giorni Mario Draghi riuscirà a compattare una maggioranza parlamentare per la formazione appunto di un nuovo governo. Vedremo chi subentrerà, Lucia Zolina, al di Castello di Viale Trastevere e sicuramente il successore troverà dei temi caldi sul tavolo da affrontare con la massima urgenza. Innanzitutto quello relativo all'apertura o meno delle scuole alla didattica in presenza. Questo è un tema molto dibattuto, tra quanti sostengono che sia assolutamente necessario mantenere ancora la didattica a distanza, visti gli elevati numeri ancora dell'emergenza sanitaria in tutta Italia, e quanti di contro ritengono che sia assolutamente necessario il rientro alla didattica in presenza, proprio per i guai che sta causando la didattica a distanza negli alunni. Quindi vedremo, chi subentrerà al di Castello di Viale Trastevere, come affronterà questo problema tenuto conto dei numeri della pandemia. Altro punto caldo è quello dei concorsi. Dopo la sospensione del 4 novembre scorso del concorso straordinario, dovrebbero riprendere le prove scritte per quanti non avevano potuto sostenerla per via della sospensione dal prossimo 15 febbraio. Se tutto dovesse andare bene, il concorso straordinario potrebbe concludersi in tempo per consentire l'immissione al ruolo dei vincitori il prossimo 1 settembre. Lo stesso di certo è difficile che possa avvenire per il concorso ordinario, per il quale ancora devono essere svolte le prove preselettive, e vedremo il nuovo ministro cosa intenderà fare e con quale tempistica intenderà affrontare l'avvio della procedura concorso all'ordinaria. Altro tema spinoso che si troverà sul tavolo il nuovo ministro è sicuramente quello riguardante il nodo dei precari dopo il parere espresso dal Comitato Sociale Europeo sul ricorso con cui si contestava la disparità di trattamento tra i precari inseriti in GAE che avevano potuto partecipare al piano straordinario di assunzione di quella legge 107 e coloro i quali, sebbene anch'essi precari, sono rimasti ingiustamente fuori. Il nuovo governo dovrà quindi prendere una decisione importante, seria, su come affrontare il nodo precari e come rispondere agli inviti alla stabilizzazione che arrivano dagli organismi comunitari. Altro punto dolente che dovrà affrontare il nuovo ministro è quello relativo al vincolo quinquennale per quanto riguarda i docenti ne avevano messi in ruolo a partire dal 1 settembre 2020 perché qualora dovesse passare l'emendamento presentato al decreto milleproro che quindi dovesse essere abolito il vincolo quinquennale il problema si risolverebbe. In caso contrario sono già pronti a quanto risulta già parecchi ricorsi che dovrebbero partire proprio per contestare anche la legittimità costituzionale della norma che impone il vincolo quinquennale introdotta col decreto scuola del 2019. Vedremo a questo punto se Mario Draghi riuscirà a compattare appunto una maggioranza parlamentare per creare un nuovo governo e vedremo chi subentrerà al ministro Azzolina per affrontare questi temi caldi. Arrivederci a tutti.